Dio non solo gioca a dadi con l'universo, ma li getta anche dove non li possiamo vedere. Io premetto che non sono credente e quindi già questa frase mi incute una certa difficoltà a poter rispondere, però mi rendo perfettamente conto che ci deve essere qualcuno che ha dovuto costruire tutto quello che noi possiamo vedere. Ora che questo qualcuno si chiama Dio o che abbia un altro nome, nessuno finora ce l'ha mai detto nessuno, ma anche se non sono credente penso che comunque ci debba essere qualcuno che un domani, non dico che dovrà giudicare il nostro operato su questa terra, ma dovrà fare in modo che chi ha avuto tanto, non è che paghi, però si renda conto che ha avuto dei benefici rispetto a tante altre persone che dalla vita non hanno avuto nulla.